Obiettivo luna rossa raggiunto, ma cresciamo verticinosamente, ora non ci resta che l'universo, alla ricerca di nuovi mondi, alla ricerca della galassia azzurra, attraversati dalla luce nera generata dai neutralini, la materia cosmica che tiene insieme i corpi celesti, disturbati dal vento cosmico che produce. Non ci lasciamo dirottare, non ci lasciamo intimorire, prodigiosamente resistiamo. Il nostro compito è recuperare il cristallo blu, tesoro celato nel tempio di Trantor, la pietra filosofale della generazione del terzo millennio, da cui scaturisce l'energia necessaria per la sopravvivenza della nostra specie. Il nostro compito è recuperare il cristallo blu, tesoro celato nel tempio di Trantor, la pietra filosofale della generazione del terzo millennio, da cui scaturisce l'energia necessaria per la sopravvivenza della nostra specie. Prima di Trantor Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.